Carabinieri contro mano sulla statale Lecce Brindisi, un morto e due feriti. La vittima è un 59enne brindisino. La CISL di Brindisi sul CISL è una grande opportunità, ma non può bastare. Bisogna considerare le tante vertenze del territorio provinciale. Natale a Brindisi, il Comune cerca sponsor per organizzare le varie iniziative. L'amministrazione approva tre delibere che avviano la fase di programmazione delle festività. Il centro-destra, alla ricerca di misera visibilità, tenta di ostacolare le procedure per impedire la realizzazione del nuovo palazzetto. Il segretario cittadino del Partito Democratico, Francesco Cannalire, risponde alle opposizioni. Convocheremo una conferenza di capigruppo per aggiornare tutti i gruppi consigliari sul percorso intrapreso. Nuovo volo Brindisi Malta della compagnia Ryanair per l'estate 2020. Accorciamo le distanze tra i paesi del Mediterraneo, ha commentato il presidente dell'aeroporto di Puglia, Tiziano Onesti. Problemi di formazione per il Brindisi, per il derby con il Foggia. Previsto il pubblico delle grandi occasioni sugli spalti del Fanuzzi. Benvenuti e ben ritrovati a questa edizione di 100 Notizie Brindisi. In apertura parliamo di cronaca, come avete sentito dai titoli. Un carabiniere viaggiava contromano sulla statale Lecce e Brindisi. Un morto e due feriti la vittima e un 59enne Brindisi. Ovviamente tutto questo è avvenuto dopo un tragico incidente, è avvenuto questa mattina all'alba. Una tragedia improvvisa, un incidente che avrebbe potuto trasformarsi in una strage, anche se il bilancio è comunque pesantissimo. Un morto e due feriti. Strada statale 613, la Brindisi-Lecce per intenderci. Un uomo, Desiderio Serio, 59 anni, di Brindisi, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un'auto che viaggiava contromano. È deceduto sul colpo e a nulla è servito l'intervento dei medici del 118. Il 59enne era a bordo di una Renault Clio assieme ad un amico rimasto gravemente ferito. Si erano concessi una serata insieme per mangiare e bere qualcosa. Sull'altra vettura, una BMW, un carabiniere di Brindisi, di 34 anni, risultato positivo all'alcol test in ospedale. L'impatto è avvenuto attorno alle 5 del mattino all'altezza della zona industriale di Surbo. Sul posto la Polstrada di Lecce, che sta esaminando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza dell'ANAS. Pare in ogni caso che il conducente della BMW abbia percorso almeno una decina di chilometri sulla carreggiata sbagliata. Il traffico ha subito inevitabili rallentamenti. Il tratto di statale interessato dall'incidente è stato chiuso fino alle 8 di questa mattina. Ancora una notizia di cronaca. Trasportava marijuana nascosta nel vano dell'autoradio. In manette il 35enne di Mesagna è arrestato per detenzione ai fini di spaccio e di sostanze stupefacenti. Viaggiava con 63 grammi di marijuana nascosti nel vano dell'autoradio. In manette il 35enne Andrea Pagliara. I carabinieri di San Vito e Normanni lo hanno tratto in arresto in fragranza di reato per detenzione ai fini di spaccio e di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'attività per la repressione dello spaccio di droga nel comune di Mesagna, i militari hanno proceduto al controllo dell'uomo sorpreso alla guida di un'autovettura in possesso dello stupefacente, occultato in una busta all'interno dell'abitacolo. Durante la perquisizione del mezzo sono state rinvenute varie bustine di celofan termosaldate e materiale per il confezionamento delle dosi. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Il 35enne, concluse le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Brindisi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Cambiamo argomento. La Cisle di Brindisi interviene sul Cis. È una grande opportunità, ma non può bastare. Bisogna considerare le tante avvertenze del territorio provinciale. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio realizzato da Fabrizio Caglianiello. Evidenziamo un cauto ottimismo ai tavoli romani in occasione della presentazione dei contratti istituzionali di sviluppo, i cosiddetti Cis, che comprendono anche quello di Brindisi. E ciò ha fatto il paio, con la soddisfazione per il riscontro positivo, non scontato, del nuovo governo, alla richiesta di continuità istituzionale più volte rivendicata anche dalla Cisle. Così il segretario generale della Cisle di Brindisi, Antonio Castellucci, che prosegue. Per il nostro capoluogo messapico sono in ballo 40 progetti per un importo di 327 milioni di euro a fronte dei 250 milioni promessi e rinvenienti da risorse finanziarie nazionali e ordinarie, comunitarie e del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Se è vero, spiega Castellucci, che lo spirito originario del Cis è fare sistema, è quanto mai opportuno che, al netto della formale alleanza dichiarata per questo tra Comune di Brindisi, Regione Puglia e Governo italiano, i rapporti di forza istituzionali facciano del coinvolgimento del territorio un fattore vincente. Ecco perché la Cisle territoriale continuerà ad affermare l'opportunità che sia preservato lo spirito dialogante e concertativo iniziale per quanto riguarda il Cis, ma non solo. Castellucci prosegue. Il Cis di Brindisi non lo consideriamo né esaustivo né risolutivo, anche per i tempi lunghi di realizzazione previsti, delle opportunità di sviluppo della città capoluogo e del restante territorio provinciale che permane a drammatico rischio di marginalità. Perciò sollecitiamo, senza ulteriori indugi per l'intera area di Brindisi, un patto condiviso per lo sviluppo e l'occupazione, facendo convergere interessi generali per creare sviluppo, salvaguardando quanto di eccellente già esiste e procedendo, certo, sul versante anche della decarbonizzazione dei cicli produttivi pesanti, ma al contempo portando a positivo compimento la miriade di vertenze occupazionali in essere nei settori anche dell'appalto e dell'indotto. La Cis lo conclude. La politica, ai vari livelli, al di là del proprio colore, è chiamata a fare sistema, favorendo sinergie che accelerino i processi di insediamento correlati alla ZES interregionale adriatica. Ancora notizia di cronaca, i carabinieri di Villa Castelli hanno tratto in arresto Angelo Soleti, 25enne di Ostuni, in ottemperanza a un'ordinanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere emessa dall'ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, a seguito delle ripetute violazioni degli obblighi degli arresti domiciliari a cui il giovane era sottoposto. Presso la comunità Emanuel di Villa Castelli Soleti, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Brindisi come disposto dall'autorità giudiziaria. Ancora i carabinieri di San Michele e Salentino hanno eseguito un'ordinanza di aggravamento che dispone la sostituzione con la misura detentiva per 30 giorni emessa dal Tribunale per i minorenni di Bari nei confronti di un 17enne già sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità presso una struttura riabilitativa di San Michele e Salentino. Il provvedimento è scaturito dalle segnalazioni dei militari in ordine alle reiterate violazioni delle prescrizioni a cui era sottoposto. Il minore è stato tradotto presso l'Istituto Penale per i minorenni Fornelli di Bari. Cambiamo argomento. Natalia Brindisi, il Comune cerca sponsor per organizzare le varie iniziative. L'amministrazione ha approvato tre delibere che avviano la fase di programmazione delle festività. La giunta comunale di Brindisi ha approvato tre delibere che avviano la fase di programmazione delle festività natalizie. La prima riguarda la manifestazione Brindisi Città del Natale, la cui ultima edizione si è svolta a Matera, che si terrà dal 22 al 24 novembre. Si tratta di un'iniziativa promossa da un'associazione senza fini di lucro che l'amministrazione ha accolto offidando a Brindisi Multiservizi la predisposizione del piano di sicurezza, la fornitura di transenne e tutti gli adempimenti per gli allacci e la pubblica illuminazione per un importo complessivo di 1.000 euro. Il programma della manifestazione prevede l'allestimento di mercatini di Natale con aree espositive per prodotti di artigianato, prevalentemente a tema natalizio, l'installazione della Casa di Santa Claus presso le ex scuole pie, iniziative culturali e di intrattenimento. Sono state inoltre approvate le manifestazioni di interesse che riguardano l'organizzazione del mercatino di Natale e lo schema dell'avviso pubblico per la ricerca di sponsor. Ed è questa l'iniziativa più importante. Con la prima è stato predisposto lo schema di avviso pubblico per individuare soggetti interessati all'organizzazione senza oneri per il Comune del mercatino di Natale da realizzare dall'1 dicembre al 6 gennaio su Corso Umberto e Piazza Vittoria. Le linee guida prevedono un minimo di 10 stand di tipologia omogenea, illuminazione decorativa e generi preposti per la vendita di tipo natalizio. Restiamo nel Comune Capoluogo, il centro-destra, alla ricerca di misera visibilità, tenta di ostacolare le procedure per impedire la realizzazione del nuovo palazzetto. Queste le parole del segretario cittadino del Partito Democratico, Francesco Cannalire, che ha risposto alle opposizioni dicendo che convocheremo una conferenza dei capigruppo per aggiornare tutti i gruppi consigliari sul percorso intrapreso. L'atteggiamento di una piccola parte dell'opposizione è finalizzato ancora una volta a creare confusione per fare becera strumentalizzazione politica per rallentare le procedure e per impedire a questa amministrazione comunale il raggiungimento di un importante obiettivo come quello di dotare la città di un contenitore per sport ed eventi. Lo dichiara il segretario cittadino del Partito Democratico, Francesco Cannalire, che aggiunge sarebbe auspicabile una loro chiara posizione in merito per specificare, se vogliono, che si realizzi la struttura o preferiscono non farla. Le procedure attivate sono molteplici e complesse e dovranno scontare tutti i passaggi previsti dalla legge. Il tentativo di qualche consigliere comunale di entrare in questa fase quindi è anomalo e fuori luogo. Sia chiaro che è legittimo chiedere informazioni sulle procedure ma deve essere fatto nelle sedi deputate e con le modalità previste che per un tema così importante possono essere per esempio la conferenza dei capigruppo o formalizzare una normale richiesta di accesso agli atti. È poco opportuno, prosegue Cannalire, se non del tutto inutile, chiedere una riunione ristretta ai pochi alla presenza dei dirigenti responsabili di queste procedure, frutto di indirizzi politici che rischiano di essere strumentalizzati per convenienza politica. Per questo il gruppo consigliare del Partito Democratico intende chiedere la convocazione di un'apposita conferenza dei capigruppo per consentire all'amministrazione comunale di aggiornare tutti i gruppi consigliari sul percorso intrapreso e sulle scelte politiche alla base della realizzazione della struttura polifunzionale. Una notizia che riguarda Francavilla Fontana è stato dato il via definitivo al progetto per il restauro conservativo della torre civica meglio conosciuta come torre dell'orologio di Francavilla Fontana. I lavori prevedono il rifacimento della facciata e il ripristino delle maioliche per un importo complessivo di circa 82 mila euro. La torre dell'orologio fu edificata nella seconda metà del Settecento per volontà del sindaco Giannuzzi. Originariamente l'orologio si rivolgeva verso quella che oggi è Piazza Dante, e l'attuale posizione del quadrante che si affaccia su Piazza Umberto I risale invece alla fine dell'Ottocento. Oggi la piazza ha assunto una fisionomia molto diversa rispetto all'epoca in cui fu eretta la torre, ma questo monumento continua a rappresentare uno degli elementi del patrimonio culturale cittadino cui i francavillesi sono più legati. Il restauro della torre civica non è una semplice operazione di maquillage, dichiara il sindaco Antonello De Nuccio. Con questo intervento restituiamo agli antichi splendori, un tassello del nostro patrimonio artistico e diamo un senso di continuità al tempo che scorre nella comunità. Proprio in questo senso assume grande significato il fatto che il progetto sia stato donato alla città da due professioniste, Maria Formosi e Valeria Curto, che ringrazio a nome di tutti i francavillesi. Cambiamo ancora argomento. Secondo Coldiretti, in Puglia danni per 1,6 miliardi di euro e 5 mila posti di lavoro persi nella filiera olearia a causa della xylella. È salita la conta dei danni causati dalla xylella fastidiosa a 1,6 miliardi di euro con 5 mila posti di lavoro persi nella filiera olearia in Puglia. È quanto denuncia Coldiretti in occasione della pubblicazione odierna della lista degli organismi nocivi prioritarie dell'Unione Europea curata dal Centro Comune di Ricerca, della Commissione e dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, secondo cui, se si propagasse in Europa, la xylella potrebbe portare danni alle produzioni da oltre 5 miliardi di euro, mettendo a rischio quasi 300 mila posti di lavoro nell'Unione Europea. Bisogna arrestare il contagio che sta avanzando inesorabilmente verso nord a una velocità di 2 chilometri al mese, denuncia Coldiretti Puglia. Da quando è stata confermata la presenza dell'axylella fastidiosa a Lecce, la produzione di oli ha subito un trend negativo irreversibile. A Brindisi la produzione di olio è diminuita del 38%, seguita a ruota dal calo della produzione in provincia di Taranto, dove c'è stata la virata della malattia, denuncia Sabino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia. La xylella spaventa l'intero Europa, aggiunge Coldiretti, con il contagio che avanza inarrestabile dopo aver devastato la Puglia, rischia di infettare nel giro dei prossimi 5 anni l'intero mezzogiorno d'Italia, dalla Basilicata alla Calabria, dalla Campania al Mulise. Da Brindisi a Santa Maria di Leuca ci sono intanto 100 km di patrimonio levicolo devastato, insiste il presidente Muraglia, con ritardi, errori e scarica barrile regionali che hanno favorito l'avanzata della malattia, con la prima condanna della Corte di Giustizia europea per inadempienza nella gestione delle axylella. Gli abbattimenti nelle aree contenimento e cuscinetto proseguono col contagocce, con inspiegabili quanto imprevedibili battute d'arresto. Se pretendiamo di farci aiutare dall'Unione Europea, le istituzioni regionali devono temporare agli obblighi comunitari sugli espianti nelle zone di contenimento e cuscinetto. In caso contrario, continueremo ad accumulare solo condanne e potremo dimenticarci di essere aiutati. La ripresa dell'agricoltura e la rigenerazione del paesaggio passano attraverso l'attivazione immediata dei decreti attuativi per l'emergenza axylella, conclude Muraglia, per dare sostegno all'impresa olivicole e ai frantoi e per la liberalizzazione dei rimpianti anche nell'area vincolate, perché serve in Puglia una massiccia ripresa produttiva. Il Salento sta morendo da sei anni di axylella e soprattutto di burocrazia. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e restate con noi per la seconda parte di 100 Notizie. Brindisi, a tra poco. Seconda parte di 100 Notizie, nuovo volo Brindisi-Malta della compagnia Ryanair per l'estate 2020. Accorciamo le distanze tra i paesi del Mediterraneo, ha commentato il presidente dell'aeroporto di Puglia, Tiziano Onesti. Si arricchisce l'offerta per l'estate 2020 per i viaggiatori che transitano in Puglia. A partire dal prossimo marzo sarà possibile raggiungere Malta da Brindisi con una cadenza di due volte a settimana con un volo diretto Ryanair. Cresce ancora la sinergia con la compagnia irlandese, commenta il presidente dell'aeroporto di Puglia, Tiziano Onesti. Siamo certi che la nuova destinazione troverà favorevole accoglienza sia per il traffico incoming, sia per coloro che volessero raggiungere un arcipelago ricco di storia e cultura che si affaccia sul Mediterraneo e che condivide con la nostra terra frammenti di bellezze architettoniche e tradizioni. Siamo lavorando in sintonia con le linee tracciate nel nostro piano industriale, i numeri straordinari con i quali abbiamo chiuso la stagione appena trascorsa confermano la strategia che stiamo perseguendo con particolare riferimento al network internazionale favorendo le frequenze dei collegamenti con l'Europa e con i paesi del Mediterraneo. Per celebrare la nuova rotta Brindisi-Malta, Ryanair ha lanciato una vendita di posti sulla sua rete europea con il 25% di sconto per i viaggi tra novembre e maggio che devono essere prenotati entro domenica 13 ottobre sul sito della compagnia. Parliamo ancora di Francavilla Fontana, Cava Messapica Inerti, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Gianluca Bozzetti, chiede di approfondire attentamente gli impatti ambientali per il progetto. È fondamentale garantire che il progetto sulla prosecuzione della cava situata nel comune di Francavilla Fontana, incontrata a Donna Laura, sia sottoposta a un attento e approfondito procedimento di valutazione di impatto ambientale, soprattutto in considerazione delle evidenti criticità che negli anni sono state riscontrate nella conduzione delle attività. Lo dichiara il consigliere del Movimento 5 Stelle, Gianluca Bozzetti, che ha inviato una pecca al Servizio regionale Attività Estrattive per avere chiarimenti in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità via della cava di calcare per inerti situata nella città degli Imperiali. Ricordiamo, continua Bozzetti, che l'attività estrattiva nella cava è avvenuta nel corso degli anni in assenza delle prescritte autorizzazioni e valutazioni ambientali, in totale in ottemperanza delle prescrizioni impartite nell'autorizzazione rilasciata nel 1999 e nelle ordinanze comunali in violazione delle norme urbanistico-edilizie. Visto che già nel 2017 era stata conclusa negativamente la procedura di via, è possibile ritenere decaduta l'autorizzazione alla coltivazione della cava, escludendo la possibilità che la presentazione di una nuova istanza possa produrre un ulteriore effetto sospensivo dell'autorizzazione. Nell'interrogazione si chiede all'ufficio regionale competente di chiarire se sia da intendere cessata l'attività di cava della ditta messapica inerti. Inoltre, visto il parere favorevole rilasciato dalla Regione nell'ambito della conferenza di servizi, si chiede anche di valutare la possibilità di rivedere il parere al fine almeno di sottoporre il progetto a via, essendo necessaria un'approfondita valutazione delle potenziali emissioni diffuse prodotte dall'attività della cava. È necessario, conclude Bozzetti, verificare attentamente le interferenze ambientali per l'emissione di polveri sottili con il tessuto residenziale circostante per valutare i potenziali pericoli per la sicurezza e la salute pubblica. Un'attività produttiva come questa necessita di essere attenzionata per tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini. Restiamo nella città dell'Imperiali. Polemiche per la sperimentazione della pista ciclabile in via San Lorenzo. Cittadini ed esercenti registrano disagi e calo di vendite. Siamo su via San Lorenzo, dove è in funzione una pista ciclabile sperimentale. Gianluca Santoro, il titolare di una pizzeria qui su questa via, come stanno andando le cose? C'è poca affluenza di biciclette e tante difficoltà per quanto riguarda sia i residenti che per le persone che comunque devono venire nel locale o comunque devono andare in qualsiasi altro locale di via San Lorenzo. Cioè che cosa è cambiato? Non ci sono parcheggi? Non ci sono assolutamente parcheggi, come è evidente, si vede. Tra passi carrabili e posti per i handicappati, insomma, ci sono poche possibilità di parcheggio per i clienti, ma anche per quanto riguarda i residenti. E voi state registrando una diminuzione dell'entrata? Sì. Che percentuale? Attualmente del 15-20%. Io spero soltanto che l'amministrazione si renda conto dei disagi che sta creando, solo questo. Cioè quali sono i disagi? Io ho delle persone che qui purtroppo dopo tre o quattro volte che hanno fatto il giro non riescono proprio più a fermarsi, insomma. e tutto ciò che questo non è un esercizio dove è di prima necessità, tipo un alimentario, un fruttivendolo, come abbiamo anche in queste zone. Io ne sto risentendo tantissimo, anche io. Soprattutto perché noi vendiamo della merce abbastanza pesante, di cui la gente a farsi carico di queste buste che sono abbastanza pesanti, non è semplice metterle su una bicicletta e poi andarsene, perché poi diventa anche un pericolo per se stesso e per gli altri cittadini. Per noi che abbiamo questa attività e quindi che abbiamo bisogno di uno scarico con annesso al camion in un tubo che possa trasportare il vino nei silos, nelle cisterne, c'è bisogno comunque sia di un parcheggio adiacente alla porta. Questo non è più consentito a causa delle strisce. Nel nostro caso, esercenti del posto, chiediamo ovviamente un po' di tolleranza che molte volte ci viene negata. e questo qua già è a scapito delle nostre attività. Quindi quella non tolleranza già ci provoca parecchi danni. La signora Isabella, una figlia disabile, abita su via San Lorenzo ed ha dei disagi dovuti a che cosa? A le barriere architettoniche che c'erano prima, adesso c'è la pericola di club e non posso uscire perché me l'hanno fatto di fronte. Cioè, che cosa è successo? Perché prima c'avevo davanti a casa un parcheggio disabile e adesso ce l'hanno fatto di fronte. Cioè, hanno spostato? Quando mi metto mia figlia in macchina e mi passa la macchina di lato perché non passa sulla pista ciclabile giusto la macchina e io devo stare attenta che non mi investino pure a me mentre che metto mia figlia in macchina. Allora, lei aveva prima lo stallo diciamo proprio vicino, adesso... Di fronte. È stato spostato. Spostato. E perché con la pista ciclabile non si poteva... Per consentire la pista ciclabile. E adesso lei ha difficoltà. Eh sì, perché lei è già pesante metterla in macchina. Devi stare attento allo sportello aperto. La macchina che ti passa di vicino che ti investe pure a te devi stare attento. Eh, voglio dire. Siamo allo sport, parliamo di calcio. Problemi di formazione per il Brindisi in vista del derby con il Foggia e per questo incontro si attende il pubblico delle grandi occasioni sugli spalti del Fanuzzi. Sentiamo la conferenza stampa pre-gara del tecnico Massimiliano Olivieri. Io credo che sono due squadre Foggia e Brindisi che non fanno calcoli. Puntano al massimo risultato. Noi lavoriamo, come ho sempre detto domenica dopo domenica e loro puntano alla vittoria del campionato come è giusto che sia perché è una squadra di un blasone che vorrà lasciare al più presto questa categoria. Però deve fare i conti anche con l'avversario e quindi sono sicuro che loro verranno qui ad avere un atteggiamento molto guardingo e a colpire quando magari tu abbassi la guardia. Quello che ho detto ai miei giocatori bisogna avere la guardia sempre alta non bisogna assolutamente abbassarla e anche noi dal nostro canto cercare di sfruttare le loro negatività che magari si potranno creare in quel momento. È un'assenza pesante? Sì, però io faccio sempre affidamento con chi ho a disposizione e per me in questo momento chi ho a disposizione deve dare 100-100 e non mi piango addosso perché è inutile piangersi addosso perché se questo mi fa prendere i tre punti allora mi piango addosso ma questo purtroppo non c'è nel calcio io devo fare i conti con quelli che ho e ho dei giocatori che sfrutteranno la loro occasione per mettersi in mostra anche di fronte a una partita importante come questa e quindi dovranno dare 100-100 poi sono sicuro che venderanno veramente cara la pelle e daranno il massimo questi ragazzi ne sono sicuro ne sono certo Sì, l'ho già vista però sono cambiati parecchi interpreti da quella partita sono cambiati parecchi interpreti l'atteggiamento è quello perché rispecchia un po' quello del del suo condottiero e quindi è una squadra è una squadra molto fisica come ho detto prima quindi sfrutterà molto il fattore fisico è una squadra che vive anche di langi lunghi per sfruttare le spizzate di Adareste e Tortori che gli gira intorno Siamo in chiusura è tutto per questa edizione di 100 Notizie e Brindisi la parte tecnica è stata curata da Alessandro Colavito un cordiale saluto e buon proseguimento di giornata con i nostri programmi a a a a a a Grazie a tutti.